È stato pubblicato dalla Regione Abruzzo il Bando di Gara Europeo per l'affidamento in concessione ventennale della gestione del Centro Sportivo Lenaia di Di Pescara. Un passaggio importante in considerazione del fatto che al 31 agosto è prevista la scadenza della concessione in capo all'attuale gestore. Il Bando Europeo per individuare il nuovo gestore del Centro Sportivo Lenaia di Di Pescara scadrà il 31 luglio a mezzogiorno. Tutte le procedure stanno venendo gestite dall'ARIC, ossia l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza. Fiducioso sull'esito del Bando Comunitario l'assessore regionale allo sport Mario Quaglieri. Per Quaglieri l'apertura della gara a livello europeo potrà consentire l'individuazione di un operatore solido e in grado di compiere consistenti investimenti utili a garantire il rinnovamento della struttura. Un rinnovamento, spiega ancora e conclude l'assessore regionale Quaglieri, soprattutto da un punto di vista energetico, preservando le attività per la numerosa utenza locale, l'occupazione e l'immagine del complesso sportivo, da sempre scenario di importanti competizioni internazionali.